Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo della nuova versione del ferrino Transalp, uno zanico che potremmo riassumere in una semplice parola, enorme. Adesso noi vediamo insieme i pregi di fette all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dallo schienale, qui salta subito all'occhio uno schienale ergonomico. Uno schienale che va a diretto contatto con la schiena, uno schienale che ci permetterà di portare dei carichi altissimi. Questo lo vediamo soprattutto nella sua costruzione, infatti è composto nella parte mediale dello schienale da due bande di alluminio che vanno a stabilizzare il carico. E dico due perché è veramente particolare trovare due bande in alluminio, molti zani ne hanno semplicemente una. Lui ne ha addirittura due proprio per stabilizzare meglio il carico e gli assicuro che anche a pieno carico lui è veramente molto stabile. Per quanto riguarda poi lo schienale lo si nota subito che è anche aggiustabile in altezza, infatti possiamo aggiustarlo semplicemente facendo scorrere la parte superiore sul binario. Ed ecco che da questo punto di vista lui a livello di comfort è veramente ottimo, cioè ci possiamo portare veramente tantissimi chili e non avremo problemi dolori alla schiena. L'unico punto negativo è sulla traspirabilità, nel senso che purtroppo essendo direttamente a contatto con la schiena, soprattutto quando magari è molto molto carico, ecco che nelle giornate più calde e stie sicuramente si suderà un po', però è un compromesso che bisogna accettare per avere questo tipo di schienale. Passando alla fascia lombare, qui troviamo una fascia lombare che è veramente enorme, cioè vi assicuro che quando la mettete su vi sentirete completamente avvolgere e questo è sicuramente il suo plus maggiore, perché con questo zaino potremo portare tranquillamente anche più di 20-25 chili senza avere dolori. Certo, poi dovremo essere allenati per riuscire a portarli, però dal suo punto di vista questa fascia lombare è così grossa, così avvolgente, che scarica veramente molto bene il peso. Sulla parte laterale troviamo delle tasche dove riporre gli oggetti, una destra e una sinistra, tasche anche molto grosse, e poi la parte anteriore si chiude con una semplice clip, che devo dire, nonostante i 25 chili che possiamo portare con questo zaino, funziona veramente bene anche a pieno carico. Infine, per quanto riguarda la sezione degli spallacci, sono spallacci molto imbottiti ed anche abbastanza grossi, proprio per riuscire a supportare tutto il peso che possiamo portare con questo Transalp. Ecco che dal loro punto di vista, sulla traspirabilità, anche loro non sono proprio al massimo, però a livello di comfort, tanta roba. Passiamo alla parte posteriore di questo Transalp, iniziando dai lati, che sono simmetrici, quindi ne vediamo solamente uno. Sulla parte laterale troviamo nella parte inferiore la classica tasca a rete per la borraccia. Qui possiamo benissimo mettere una borraccia, e questa riusciamo sia a prenderla che a riporla in autonomia, oppure qualche oggetto lungo, perché poi lo zaino, essendo molto alto, davendo le cinghie di compressione laterali, possiamo portare all'esterno anche qualcosa come possono essere i pali della tenda, per esempio. Nella parte superiore, come vi dicevo, troviamo le cinghie di compressione, ma anche delle tasche a soffietto. Sia a destra che a sinistra troviamo due tasche a soffietto, chiuse con una cerniera, dove poter andare a stivare maggior materiale. Quindi qua, veramente, a livello di tasche, anche lui ne ha tantissime. Passando alla parte posteriore vera e propria, salta subito all'occhio questa enorme tasca. Non troviamo la classica tasca a rete di tanti altri tipi di zaino, ma una tasca vera e propria, chiusa da zip, dove anche qua possiamo stivare un sacco di materiale. Cioè, veramente, lui è la versione da 60 litri, qua che sto provando, ma di materiale ce ne può portare davvero tanto. Quello che vi piace di questo zaino sono anche le sue aperture, perché, oltre alla classica apertura superiore, proprio classica per riempire lo zaino, e quella inferiore, classica per poter andare a mettere, diciamo, la zona del suo capelo, troviamo un'apertura a metà, a tipo di borsone, che ci permette di poter prendere gli oggetti nella parte bassa dello zaino senza dover stare a suotarlo. Devo dire, è veramente comoda quando il zaino è molto pieno. Altra caratteristica sicuramente ottima è che troviamo la possibilità di portare all'esterno un po' di materiale. Nella parte bassa troviamo le classiche cinghie di compressione, ma possono portare fuori qualche materiale. C'è la possibilità di portare i bastoncini, diciamo che di cinghie non ne mancano davvero per poter portare degli oggetti anche all'esterno. Infine, per quanto riguarda il cappuccio, anche lui cappuccio enorme, troviamo nella parte superiore la tasca classica, dove ci sta un sacco di oggetti. Nella parte interna, altra tasca, ci sta un sacco di oggetti. Come vi preannunciavo, la parola per questo zaino è enorme, anche in questo caso la si riconferma. Unica cosa, fate attenzione a non riempire troppo il cappuccio dello zaino, perché essendo molto in alto potrebbe sbilanciarvi quando andate a camminare. Più che altro, questo zaino sicuramente, viste le sue dimensioni, dovrete fare attenzione quando lo andate a riempire per bilanciare molto il carico. Parlando del comparto acqua, come vi dicevo, lui ha la possibilità di portare le borracce sulla parte esterna, ha la possibilità di portare la vescica nella parte interna, con la possibilità di far uscire la prolunga sulla parte anteriore, ed è compreso già il ring cover in dotazione quando lo andiamo a comprare. A livello di materiali, invece, lui usa un Jaguar Wave 500D, un materiale estremamente durevole, un materiale che veramente potrete strusciare contro questa siroccia e non avrete problemi, un materiale che però di contro lo fa pesare parecchio. Infatti parliamo di uno zaino che pesa 2,5 kg nella versione da 60 litri, e più si sale con le versioni, più sale il peso. Diciamo che il peso dello zaino sicuramente può essere uno dei suoi punti deboli. È anche vero però che con tutte le tasche e tutte le feature che ha, bisogna avere dei compromessi, e il peso sicuramente è uno di quelli. Arriviamo infine alla conclusione per questo nuovo Transalp a 60 litri. Ve lo consiglio, sì, assolutamente sì, soprattutto se dovete fare dei viaggi lunghissimi. Viaggi in cui sarete via settimane, viaggi che magari non sono per forza dei trekking, ma dei veri e propri viaggi, quindi magari viaggi zaino in spalla, route trip. Questo zaino è usato tantissimo anche per chi fa interrail e roba del genere, quindi sicuramente uno zaino pensato per chi viaggia, perché bisogna importare tantissimo materiale, uno zaino che poi online non si trova come prezzo attorno ai 160-170€, quindi comunque prezzi in linea con la fascia di mercato. Etto, ciao ragazzi, nella speranza sia stato esaurante e sostenuto anche per questa recensione, vi ringrazio la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!